Buongiorno a tutti amici interisti, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo super nuovo video Paggelone Udinese 2 Inter 3 Prima di iniziare come sempre il supporto che potete darmi, il massimo supporto è chiaramente l'iscrizione al canale Forza che siamo vicini ai 500 iscritti che è il mio grande obiettivo Una partita sudata, sudatissima, a parte il caldo che ancora qui abbiamo in Sicilia Ma sudata perché veramente l'Inter mi ha fatto stare teso fino all'ultimo secondo E troppi svarioni in fase difensiva Ma ora ci arriviamo, iniziamo subito e andiamo a Sommer Al quale do 5,5 perché se è vero che è molto molto bravo col pallone tra i piedi e gestisce in posta molto bene Però nel primo gol non può far nulla, sì probabilmente è vero Nel secondo invece potrebbe chiudere meglio lo specchio della porta Era abbastanza preveribile il diagonale di Lucca Diciamo che non è un errore di Sommer però non gli voglio dare la sufficienza Mezzo punticino in meno, 5,5 a Sommer Bissek Anche lui 5,5 Nel primo gol dell'Udinese si perde Cabasele E' lui che lo marcava Quindi c'è un piccolo errore, una piccola disattenzione in fase difensiva E stranamente non da lui Qualche altro errore tecnico di impostazione Uno nel primo tempo dove invece di servire Darmian se non erro La palla esce in fallo laterale e proprio sbaglia il passaggio Errore tecnico non da lui E poi in fase di impostazione nel secondo tempo Cerca un filtrante a tagliare tutto il centrocampo avversario Che però viene intercettato appunto dall'Udinese E quindi sbaglia anche questo passaggio Troppi errorini, 5,5 anche per Bissek Andiamo ad Acerbi al quale do 6 meno 6 meno da Acerbi perché la sufficienza non gliela voglio dare Alcune volte è troppo lento, troppo macchinoso Quando non gioca nelle sue zone preferite al centro della difesa Ed è costretto a chiudere, ad aiutare i compagni sulle corsi esterne È troppo lento, spesso e volentieri gli avversari con tanto campo davanti Lo saltano, comunque non riesce a tenerli bene in marcatura Come riesce a fare al centro della difesa dove davvero è un maestro Sarebbe una partita sufficiente Gli voglio dare il meno perché nell'occasione anche del 2-3 dell'Udinese Sale un po' troppo e poi in ritardo lascia un buco in difesa Insomma l'errore non è suo, è di tutta la fase difensiva della squadra Soprattutto di De Vrij che tiene troppo alta, troppo bassa, scusate La linea del fuorigioco e lascia in gioco Lucca Però, insomma, 6 meno ad Acerbi Andiamo a bastoni, il migliore della difesa Il migliore della difesa È bellissimo il lancio che all'inizio del secondo tempo, al 47esimo Fa per Turam Gli permette di aprire, tagliare tutta la difesa Biol errore di lettura Turam soppa la palla Magistralmente serve Lautaro che poi fa il 3-1 Questo è il plus che do a bastoni che ci ha provato E con la sua tecnica è riuscito a gestire bene sia la fase difensiva Ma anche quell'offensiva come i braccetti devono fare Peccato, io non l'avrei tolto a bastoni sinceramente Non avrei fatto quel cambio Poi Inzaghi sta cercando di gestire le energie nel migliore dei modi Non sempre, secondo me, bene ci riesce Andiamo a De Vrij che entra 5,5 5,5 a De Vrij perché, come dicevo, lascia troppo basso Anche se in un ruolo non suo Perché invece di entrare in centrale Gioca a braccetto di destra perché è lì che lo vuole Inzaghi Io non l'avrei messo in quella zona di campo E perché poi quando i giocatori sono fuori ruolo Non capiscono più bene i movimenti da fare Non sono al loro agio Quindi io cercherei sempre di mettere tutti al loro agio Nelle condizioni migliori De Vrij 5,5 lascia, ripeto, troppo bassa la linea del fuorigioco Lucca in gioco e fa il gol del 2 A 3 Darmian 6,5 Molto bravo in fase difensiva Non sbaglia mai Ottimo il passaggio che porta subito dopo 45 secondi Frattese al gol dell'1-0 dell'Inter Poi però purtroppo quel gol mangiato nel finale di secondo tempo È una macchia Lui purtroppo davanti alla porta non riesce a essere mai cinico Non riesce mai a segnare Quando invece dovrebbe fare gol importanti Che potrebbero già chiudere la gara dopo poco Col Manchester City Stessa azione Lì fa il tacco Senza senso per Barella Ora stavolta dopo aver capito di aver sbagliato in quella partita Tira in porta ma nemmeno la trova Palla fuori Però niente Tutto sommato il 6,5 per l'assist Glielo diamo con piacere Frattesi Probabilmente secondo me dopo Lautaro Martinez Il migliore in campo Gli do 7 più Frattesi ottima partita Sia per il gol che apre le danze Importantissimo Sia soprattutto a livello tecnico Anche ha giocato molto bene Con un tacco a centrocampo Ha fatto fuori due avversari Se ne è andato e si è involato Ha fatto ammonire il centrocampista dell'Udinese Insomma una buona Buonissima partita di Frattesi Stavolta Devo essere sincero Da titolare E sono contentissimo Perché dopo i due gol in nazionale In due partite diverse Ci aspettavamo anche che si sbloccasse con l'Inter E finalmente c'è riuscito 7 e più Davidino Frattesi Cialanoglu 6 Partita di ordinaria amministrazione C'è poco da dire Ha provato con qualche tiro dalla distanza Insomma a cercare qualcosa in più Bella la sventagliata Nel primo tempo Per Di Marco Che gli permette poi Diciamo di mettere un bel pallone in mezzo Un po' corto in quell'occasione Da parte di Di Marco Però Cialanoglu Si è districato abbastanza bene 6 e più Gli diamo un 6 e più a Cialanoglu Mkhitaryan anche lui Rispetto alle ultime partite Secondo me è un po' meglio Un po' più ordinato Un po' più concentrato Riesce a gestire meglio i palloni Non perdersi troppo In leziosismi E purtroppo lì c'è anche una Ci sarebbe stato un possibile gol Di Mkhitaryan Che era nel posto giusto All'omento giusto Se poi Lautaro Martinez Nel 3 a 1 Già acquisito Invece di provare la tripletta E lo scavetta d'Okoi Se l'avesse servito A questo ora probabilmente A porta vuota Mkhitaryan avrebbe fatto Il 4 a 1 E quindi lì Sarebbe stata la partita chiusa Peccato Peccato davvero Avremmo potuto soffrire Tutti noi interisti Molto meno Ma così è andata Comunque 6 e più Per Mkhitaryan Che si sta un attimino riprendendo Di Marco 7 7 per l'assist Bello Molto bello Per Lautaro Martinez Che poi ha aiutato Nell'occasione Dell'1-2 Da un rimpallo Su Biol Però l'assist di Di Marco Come al suo solito Mette sempre i palloni Super invitanti in mezzo Ma soprattutto Per il salvataggio Che fa al 34esimo Su Non ricordo Se non ricordo male Era Toven Che stava tirando a porta Sguarnita E lui riesce In diagonale difensiva A chiudere E a mettere il pallone In angolo Grande partita Di Di Marco In entrambe le fasi 7 per Di Marco Andiamo a Turam Anzi Scusatemi Zilinski Senza voto Entra al posto di Frattesi Gioca 8-9 minuti Non riesce a incidere Al posto di Di Marco Entra Carlos Augusto Che fa una partita sufficiente Mai veramente pericoloso In fase offensiva Entra per dare una mano In fase difensiva Nel forcing finale Dell'Udinese E tutto sommato Ci riesce egregiamente Si prende il 6 Sufficiente Turam 6 e mezzo 6 e mezzo Turam Perché comunque A parte l'assist Per Lautaro Martinez Fa anche una gran bella Azione Nel primo tempo Dove Al 21esimo Si strattona Col difensore avversario Ha questa capacità Questa fisicità Abbinata anche alla velocità Che gli permette Di potersela Giocare Se non sbaglio Con Cabasele E poi Tentare Un po' Strattonato Un po' Trattenuto Da Cabasele Il tiro in porta Poi lì Okoye Con quei suoi due metri Di stazza Gli Diciamo Gli ostruisce Tutto lo specchio Della porta Gli la tira addosso Lì probabilmente Un pallonetto Forse sarebbe stato Diciamo L'idea migliore Ma Si prende comunque Il 6 e mezzo Per una buona Davvero Partita E per l'assist Soprattutto Del 3 a 1 Di Lautaro Martinez Taremi entra al suo posto Entra non male Serve anche Lautaro In un'occasione Che poi mette in mezzo Per Carlos Augusto Il 77esimo Palla fuori E poi Anche un gol annullato A Taremi Per fallo Dello stesso Però lì Era riuscito comunque A segnare al 94esimo Si vende il 6 da Taremi Lautaro Martinez Il migliore in campo Probabilmente per la doppietta Anzi sicuramente Solo per quello No Perché comunque Fa una buona partita Anche in fase difensiva Si impegna tanto Ma L'errore nel primo tempo Che di testa Al nono minuto Si mangia un gol clamoroso E' grave E' grave Non lo dovrebbe fare Quell'errore Poi si rifà Con la doppietta Bellissima Finalmente si sblocca il toro E ritorna L'Inter alla vittoria Prima vittoria fuori casa Ricordiamolo di questa stagione 7 e mezzo 7 e mezzo Per Lautaro Martinez Sentra Correa Nel secondo tempo Proprio Negli ultimi minuti finali Gli ultimi 7 8 minuti finali E riesce anche A giocare una buona palla Sulla sinistra Secondo me Con intelligenza E poi dal limite dell'aria Tentare Un tiro a giro Sul secondo palo Che Okoye Bravo Mette in calcio d'angolo E sarebbe andato Sotto l'ingrocio Una buona idea Di Correa Finalmente una delle poche Si prende il 6 Anche Correa Andiamo a Inzaghi Ragazzi E' una vittoria E' la prima in trasferta Io gli do il 6 e mezzo Però mi aspetto molto di più Mi aspetto molto di più Nella mentalità Nel cercare Di Spronare meglio I giocatori Mentalmente Cercare di fargli raggiungere L'obiettivo Che è chiamato scudetto Per quanto mi riguarda Ma la dirigenza Non si è esposta Tutto E tutto è come dire niente L'Inter La dirigenza ha detto L'Inter deve vincere tutto Parte per vincere tutto La Champions Il campionato Poca chiarezza Negli obiettivi E questo è un errore Che non dobbiamo fare L'Inter è forte Siamo i più forti In campionato Ma lo dobbiamo dimostrare Altrimenti Di questo Ce ne sbattiamo Tutti noi tifosi I cosiddetti Quindi Si vende il 6 e mezzo Ma dobbiamo registrare meglio La fase difensiva Dobbiamo cercare Di fare i cambi Nella maniera corretta Bastoni Non doveva essere tolto Dal mio punto di vista Fa sempre Gli stessi cambi Bastoni Viene sostituito Sempre prima della partita E lì l'errore Sta non solo In sostituire bastoni Ma poi nello schierare Il terzetto difensivo In maniera Cioè fuori ruolo Metterli fuori ruolo E non nei loro ruoli Abituali E poi Niente Secondo me C'è qualcosa ancora Che non va Bisogna registrare la difesa La fase difensiva L'attenzione Spesso e volentieri Dopo 15-20 minuti Di solo Inter Molliamo troppo facilmente La presa Non mi piace 6 e mezzo Inzaghi Ragazzi Vi saluto Vi mando Alla prossima partita Martedì sera Contro la Stella Rossa Post partita E poi Chiaramente Il pagellone Buonasera a tutti E buona domenica Ti è tutte le cucchie Forza Inter Sempre